Ciao Margherine, finalmente siamo arrivati a questo momento, ossia le note sulla patch 2.5, finalmente posso dirvi tutto, ma mi raccomando, sono tante novità, quindi restate qui con me perché ne vale veramente la pena. E ad ogni modo, più tardi uscirà anche il video sulle patch veloci, magari ecco quello per le cose più importanti e che potete sentire al volo prima di buttarvi in ranked. Adesso andiamo a vedere proprio le note sulla patch e quello che succede. Quindi, iniziamo subitissimo, qui ci sono un po' di cose della Riot che sfaciola, e andiamo avanti. Nuovi campioni, finalmente Veigar the Tiny, Master of Evil, viene aggiunto. Veigar è un mid laner molto forte, ve ne parlerò nell'introduzione campione e dove vi spiegherò le sue abilità e le sue combo, e poi successivamente vedremo la vetrina dove lo utilizzerò a spam e mid, in quanto come challenger mid sicuramente mi ci divertirò molto. La nuova feature che avete già visto dal video della patch preview sono le gilde. Le gilde, finalmente, è una bellissima interazione sociale che viene aggiunta. Serve a farci creare queste gilde spettacolari, dove noi andiamo per esempio a creare la gilda, a far crescere il numero di persone al suo interno, e anche fare delle missioni, delle gilde contro gilde. Ci danno anche qualche informazione in più, quindi ci dicono che possiamo creare la gilda e che la potete creare dopo essere a livello 9. Crearla costa 200 wildcores o 400 porocoin, e stanno aggiungendo un piccolo costo qui perché vogliono evitare che tutti si creino la propria gilda e nessuno entri in quella di qualcun altro. Quindi io in particolare creerò la mia gilda, stiamo decidendo il nome in stream, stiamo decidendo il nome su Telegram e su Instagram, quindi se volete partecipare, mi raccomando, partecipate su questi social così decidiamo insieme e ci divertiamo. Qualora fossimo veramente tanti, comunque andrò a creare due gilde, una con l'account principale e una con l'account secondario, e non lasceremo nessuno indietro. Fondamentalmente. Qui ci dice che ci sarà il guild finder per trovare, insomma, altre gilde, ecco, in base agli shared interest, quindi gli interessi condivisi, il livello o per esempio il linguaggio. Qui ci dice che se siamo parte di una gilda potremo chattare con la nostra gilda, utilizzare i lemot, reagire ai post, oppure anche semplicemente invitare dalla gilda per riempire le nostre lobby. Inoltre ci saranno i moderatori, gli official e il guild leader. Chiaramente di quelle che creo io, sarò io il guild leader. Comunque, infatti, ci parlano della personalizzazione. Come guild leader potremo selezionare, cioè io potrò selezionare un nome, un'icona, tag e altre cose, che semplicemente farò insieme a voi durante, appunto, utilizzando i social di cui parlavo prima. Ad ogni modo, questo lo faremo insieme, quindi lo scopriremo bene insieme. Quando sarete parte di una gilda, otterrete una, una gilda, cioè una, diciamo una targa di gilda, ecco. La targa di gilda sarà mostrata, vi dice dove? Vi dice, insomma, in molti posti, tra cui il banner, nella lobby, nelle leaderboard e altre, e altre che non ci specificano qui, ma che scopriremo. Forse lo hanno messo nelle FAQ, se trovo le FAQ ve le lascio in descrizione, altrimenti lo scopriremo quando la patch andrà live. Qui ci dice che la gilda potrà salire di livello e che ci saranno anche delle ricompense. Ci diranno più tardi anche tutto come funziona al 100%. Comunque, giocate insieme alla vostra gilda, fate missioni, fate salire tutto quanto. Poi, in game, con lui, sarà tutto più chiaro e più semplice. Però, ci dicono anche che c'è una nuova feature, ossia la gilda contro gilda. Quindi ci danno le gilde e subito ci danno la gilda contro gilda. Quindi, bellissima, una cosa molto interessante. Sarà bello fare queste missioni insieme e ci danno anche già le prime basi. Ci dice che è una competizione settimanale tra due gilde che verranno selezionate. Ci dice che dovremo guadagnare dei punti, comunque fare delle missioni e la gilda che avrà più punti alla fine della settimana vincerà le gilde contro gilda. Inoltre, ci dicono che i match-up, appunto, sono settimanali, come dicevamo prima, e che ogni settimana, tutte le gilde, perdonatemi, sono assegnati due campioni di quella settimana. Insomma, in quella match-up della settimana. Quindi, non ho capito bene al 100%. Ah, Champion Favor, eccolo qui nell'immagine. Per esempio, qui è Jinx. Ora, non so se effettivamente usando quel Champion o no, cambia qualcosa. Lo scopriremo quando andrà live. Qui ci dice, inoltre, che saranno scelte delle zone in cui bisognerà combattere. Per esempio, la prima zona che andremo a vedere sarà proprio Pitlover e Zaun. Quindi la prima zona, e sarà chiaramente questa, proprio per l'arrivo di Arkane, che sarà una serie TV su Netflix proprio di Riot, che tra l'altro ci introdurrà anche gli altri campioni che sono stati annunciati nel patch preview, cioè Caitlyn e Jace. Quindi, la quantità di informazioni e di roba che ci stanno dando è veramente tanta. Quindi andiamo avanti. E ci dicono le missioni. Le missioni sono completate insieme da tutti quanti gli appartenenti della Gilda. Ed inoltre, ogni missione ha più punti da guadagnare. Quindi in questo caso, più missioni completiamo, più punti andremo a guadagnare per la nostra Gilda. Completare le missioni darà dei kill points, appunto, per far salire anche la Gilda in generale, a prescindere dal vincere o perdere il Gilda contro Gilda in cui siamo in quel momento. All'inizio della settimana, i giocatori saranno marchiati con armato e non armato. Alla fine della settimana, più giocatori armati avrete nella Gilda, più sarà possibile guadagnare punti, o comunque anche sarà più probabile vincere la Gilda contro Gilda. Ci dicono inoltre che, per maxare il nostro score finale in Gilda, dovremo avere più giocatori armati possibile. I giocatori non armati non ricevono i trophy points dalle missioni, ma li mettono da parte. E quando diventano armati, ce li hanno pronti. Inoltre, ci dicono anche che i player non armati possono diventare armati se vanno a fare una battaglia insieme a un loro amico armato. Quindi questo serve ad aumentare l'interazione sociale. Cioè io sono armato, tu non sei armato, andiamo a fare la partita insieme e diventi armato anche tu e quindi puoi partecipare anche tu meglio appunto alla guerra. E così facciamo diventare tutti armati. Più ne diventano, meglio è. Poi ci spiegano anche del sabotaggio. Quindi qualora state perdendo, no, non perdete al 100% perché c'è il sabotaggio. Più avanti nella settimana, durante la Gilda contro Gilda, il team che sta perdendo gli sarà offerta la possibilità di sabotare i loro opponenti. Sabotare è proprio un ultimo sforzo finale per provare a vincere. Cosa fanno? Vi dicono che il sabotaggio lo potete fare solamente se andate in una stack da 5 in game, quindi stack da premade da 5, e avete solamente 24 ore di tempo per mettere in atto il sabotaggio. Il team che riesce a sabotare, vedete qui ci dice winning team, è che riesce a sabotare, quindi se il sabotaggio ha effetto e il team che ha effetto il sabotaggio riesce, insomma, no. Quindi il team che mette in atto il sabotaggio sarà in grado di probabilmente di riuscire a vincere, a meno che, a meno che la squadra che stava in testa e che deve difendersi dal sabotaggio riesca a mettere da parte un team da 5 nelle 24 ore successive al sabotaggio per riuscire a difendersi dal sabotaggio. Quindi bellissima cosa per provare a ribaltare tutto all'ultimo secondo e per obbligare la Gilda vincente a difendersi dal sabotaggio. Le risorse finali dipenderanno da varie cose, quindi per esempio i punti che accumulate, il champion favor ed inoltre anche il numero totale di sabotaggi, quindi più fate di tutte le varie cose che vi chiede di fare la Gilda Autogida più sarà probabile, scusate, più probabile vincere. La Gilda che avrà i punti più alti, insomma, vince, e fin qua ci arriviamo. Le ricompense, e direte, io cosa ci guadagno? Giustamente tutti sempre qualcosa vogliono. Comunque ci saranno delle varie cose che hanno già annunciato durante il video preview, quindi ninnoli, emote, banner, ma tutta roba limitata e ottenibile solamente facendo il Gilda Contro Gilda. Ed inoltre andete anche ad aumentare il rank di quella Gilda nel Gilda Contro Gilda, che quindi può essere anche qualcosa, ecco, di vanto per voi. Ah, sono nella Gilda che è top 10, top 5, qualcosa del genere. Quindi particolare, molto interessante. Ma ora andiamo a vedere qualche cambiamento differente, qualche anche questo che è stato annunciato nel video, cioè il matchmaking. E dicono, dobbiamo risolvere qualcosa sul matchmaking. Cosa andiamo a risolvere? Un nuovo algoritmo del matchmaking, che andrà a utilizzare molto di più l'MMR, che pensavamo stessero già usando, ma invece così dicono, la usiamo ancora di più, ed è un numero nascosto che rappresenta il vostro rank, praticamente. Non il rank quello in game, ma proprio quello vero e proprio quello nascosto. E quindi cosa ci dicono? Cercheremo di usare di più l'MMR, e meno il vostro rank attuale, quello che già conosciamo. Insomma, Smeraldo, Diamond e così via. A questo punto, cosa farà? Diciamo che rischiate di vedervi, siete Diamond e vi trovate un platino in team, e dite, ah cavolo, ho trovato un platino. No, perché loro metteranno una piccola targhetta a dirvi, guarda che questo platino ha l'MMR da Diamond, quindi non è un pedale. Ha il tuo stesso rank. Praticamente, invece, questo papiro qui serve a dirci che, prima, voi potevate cercare una partita per 20 minuti. Nei primi due minuti cercavano il più vicino possibile a voi, da due minuti. A 20, iniziava ad espandersi sempre di più in raggio, fino a dire, ok, vi butto in una partita qualsiasi pur di farvi giocare. Adesso, iniziano ad espandere da subito, di modo che, invece di arrivare più probabilmente a 18, 17, 20 minuti, è più plausibile che tutti quanti aspetteranno un po' di più, ma che non si supera mai i 3-5 minuti. Cioè, quello è il loro goal. Prima era, chi sta in un'MMR buona, in un rank decente, dove ci sono tanti giocatori, lo trova subito. Primi 30-40 secondi, trova il match. Quelli con un po' più di problemi rischiavano di aspettare 15, 16, 17 minuti. Io stesso in Challenger ho rischiato a volte di aspettare 18-19 minuti. Invece così dicono, aspetteranno un po' di più alcuni, ma tutti quelli che avevano un matchmaking enorme probabilmente riescono invece ad entrare in game prima. È un buon cambiamento e ci può stare molto bene. Ed inoltre vanno anche a cambiare il guadagno dei punti nelle rank, ed specialmente dicono che ci sono stati in questa season molti che si lanciavano dal Master al Challenger, perché chiaramente il guadagno dei punti in Challenger e in Grandmaster faceva pena. C'era fatto malissimo. A questo punto dicono che lo sistemano. Dovremmo aspettare la season per vedere esattamente come, se non altro è un bel cambiamento, ecco, per riuscire a non avere questa discrepanza di rank su, giù, su, giù. Detto questo andiamo al Wild Pass. Eccolo qui, molti di voi già l'hanno visto nel video precedente. Ad ogni modo c'è Tristana come ricompensa explorer appunto nel pass e ci dicono anche che è stato reso più bellino. Vedete, hanno upgradato l'UI del Wild Pass e lo hanno fatto più caruccio da vedere, più comprensibile nelle ricompense e vedere quello che è dopo. Quindi niente di particolare sul Wild Pass. Adesso invece ci dicono che se tu compri il pass, quello base o quello elite, le missioni le avrai su entrambi i pass, ma il pass elite, quello più costoso, avrà addirittura un boost all'esperienza su queste missioni. Quindi chiunque compra il pass ha le missioni per finirlo prima. L'elite lo finisce ancora prima. Quindi prendetevi esperienza e ci arrivate prima alla fine, semplicemente. Inoltre hanno aggiunto nel pass dei bordini al profilo addizionali come ricompense durante il pass. E la skin che ci hanno detto che ho già detto prima sarà invece Explorer Tristana che sarà a livello 50 se avete comprato o il pass base o quello elite. Un piccolo upgrade molto interessante per coloro che streamano direttamente dal telefono è questo di Sul Twitch Streaming che ci dicono che adesso avrete già in game un'impostazione con la quale andare a premere il pulsante che vi manderà direttamente a streamare su Twitch. Io personalmente uso altri dispositivi ma potrebbe essere comodo per qualcuno. Ci fanno anche sapere che ci sarà la position preference anche nelle normal, nelle PvP. Quindi se siete delle persone che giocano a poker ranked o comunque giocano delle normal loro vi danno la possibilità di scegliere la vostra posizione anche in normal. Molto buono come cambiamento ci sta finalmente, anzi direi. Ma eccoci alle skin. Finalmente le skin, diciamo che quelle le hanno mostrate meglio nel video della patch preview che trovate sempre sul mio canale è stato pubblicato qualche giorno fa e qui ci fanno vedere solamente quella di Kaisa. Ma sappiamo però di più su queste skin ossia che il 15 ottobre usciranno la skin di Veigar e quella di Tristana perché chiaramente uscirà insieme al pass mentre il 20 ottobre uscirà la skin di Brand la skin di Ash questo è il tema dragone quella di Kaisa quella che vedete qui su bellissima Aurelion Sol e Mastery quindi loro queste qui usciranno il 20 ottobre. Qui invece abbiamo un piccolo sneak peek dei nuovi accessori eccoli qui che ve li fanno vedere guardate che carini queste di Veigar è bellissima la voglio troppo poi belli bordi e vediamo anche insomma i nuovi banner ce ne saranno molte qui ce ne menzionano tante ve lo lascio un attimo qui così se volete potete mettere in pausa e leggere o altrimenti giù in descrizione troverete il link alla patch e lo potrete andare a guardare direttamente lì. Per gli eventi abbiamo l'arrivo di Veigar quindi ci sarà un evento per Veigar per riuscire a prenderlo e sbloccarlo gratuitamente io personalmente lo comprerò al day one proprio per portarvi subito l'introduzione e per giocare le ranked sarò onesto con voi ad ogni modo il secondo evento invece è la Way of the Dragonmancer dove non ci dicono molto ci dicono i dragoni cercano un nuovo campione quale sarà? quale sarà? L'evento di Veigar inizia il 15 ottobre all'arrivo della patch mentre quello dei dragoni inizia il 20 ottobre quindi insieme all'arrivo delle skin direi ed eccoci alla parte dei campioni se siete arrivati fino a qui dopo l'inizio del video complimenti purtroppo o per fortuna insomma tanti cambiamenti tanta roba ma questi saranno veramente tanti tanti nerf e tanti buff quindi voliamo Ari viene nerfata ragazzi tanto forte tanto piccata in competitive le abbassano le statistiche quindi meno vita e meno mana e la rendono un po' meno potente infatti anche la prima abilità l'Orb of Deception che è appunto la pallina che lancia e ritorna viene nerfata sul danno per Akshan invece vediamo che dicono che praticamente lo rendono un po' più giocabile nella Wild Rift cioè appunto su Wild Rift come avevo detto io sembrava portato da PC a Wild Rift ed era un po' scomodo da utilizzare e finalmente ci hanno ascoltato perché vedete che i suoi cambiamenti non sono su statistiche o cose del genere ma proprio c'è scritto che lui scivolerà sul muro se colpisce un angolo ottuso quindi inferiore a 90 gradi e dovremo vederlo in game per capirlo meglio ma dovrebbe essere più comodo riuscire a spostarsi sulla mappa che è un po' più stretta nelle interazioni ecco per quanto riguarda magari vicino ai cespugli vicino alla mid ci sono un sacco di parti particolarmente strette su cui è difficile utilizzare il rampino e muoversi scusate mi sono incollato il microfono invece per la ulti vi dicono ancora di più ci faranno vedere con un indicatore quando qualcuno potrà essere ucciso dalla nostra Suprema quindi tanta roba Annie viene nerfata e baffata contemporaneamente hanno dei cambiamenti sullo scudo il cooldown viene abbassato lo scudo è meno forte all'inizio più forte dopo ma abbassano la percentuale di AP mentre sulla Suprema vanno ad abbassare il range di un bel po' di una cinquantina di range in meno sull'effetto del Tiber che è a terra ed inoltre vanno ad abbassare il danno base appunto della Suprema quindi gli fanno fare meno danno però vanno ad aumentare l'aura dell'orso quindi quell'aura infuocata che l'orso ha intorno a se stesso passa da 200 a 300 quindi comunque un terzo in più ed è piuttosto buono come cambiamento ovviamente devono levare qualcosa da qualche altra parte e ci vanno anche a dire che il danno dell'aura passa da 20-30-40 più 10% dell'AP a 24-40-56 più il 12% dell'AP ogni un secondo e non solo guardate la frequenza dei tic passa da 1 al secondo o a 4 per il secondo cioè quindi è veramente tanto questo buff intorno all'aura di Tiber che potrebbe essere pericoloso perché molti lo ignorano l'orso e così non potranno più farlo ed inoltre fanno in modo che l'attack speed aumentata dell'orso prima scadeva dopo 3 secondi adesso non scade più quindi sarà questo orso arrabbiatissimo per tutto il tempo vanno leggermente a potenziare Ashe ma non vogliono sbilanciarsi troppo quindi le aumentano lo slow da 15-25 a 20-30 ed inoltre aumentano la quantità di critici da 30-50 a 40-60 Aurelion Sol viene nerfato sì ho preso la pausa effetto drammatica perché non ha senso viene piccato poco non so perché dicono che è troppo safe sì è safe ma non viene piccato quindi vabbè gli abbassano l'armatura da 35-30 e l'espansione celestiale passa dal 40-30% di bonus movement speed non comprendo ma ok Camille è troppo forte e viene nerfata praticamente cosa fanno le vanno a impedire di colpire i mostri della giungla con il rampino quello che rimbalza insomma che colpisce che stanna perché così non vai a stannare ed inoltre non vai neanche a guadagnare l'attack speed così dovrebbe essere più lento a pulire la giungla ed è troppo un flex pick semplicemente dicono Diana semplicemente vogliono renderla un po' più fattibile in giungla e vedete che vanno ad aggiungerle il 110% di danno ai mostri quindi la vogliono provare a far diventare una jungler di Fizza invece vanno semplicemente a cambiare leadbox della Suprema che dicono che non era pulita al 100% e che adesso sarà migliorata ok Galio Galio diciamo che ritengono che da tank sia un po' troppo forte come tank e quindi vanno ad abbassare il danno della sua seconda abilità niente di particolare Gregas invece viene nerfato e dicono semplicemente la Suprema ce l'hai troppo spesso e fa troppo danno quindi vanno a nerfare il cooldown nelle prime fasi di gioco e vanno ad abbassare il danno nelle prime fasi di gioco Gervani invece vanno semplicemente a sistemare un po' lo standard la combo che fa quando mettete lo standard e poi utilizzate la prima abilità per dashare e lo rendono un po' più veloce un po' più meno clunky insomma così dicono Gine viene leggermente baffato dicono non è abbastanza forte e infatti vanno ad aumentargli la durata dello snare sulla seconda abilità quindi invece di uno un 2 un e5 un e75 diventa uno 0,5 secondi 0,25 scusatemi secondi in più a ogni livello quindi arrivando a un 2 secondi quando l'avete maxato considerando che si maxa prima la prima abilità e poi la seconda potrebbe non essere male vediamo come si comporterà nella banda Kennen viene baffato dicono Kennen è molto buono ma non abbastanza da avere un impatto nei livelli alti insomma quindi Challenger o Grandmaster e anche addirittura le competizioni importanti quindi dicono che provano a baffarlo gli aumentano l'attacco base da 52 a 58 che è un bel buff ed inoltre vanno ad aumentare la percentuale di movimento che guadagnate dalla terza abilità Lisini invece finalmente vede un piccolo nerf dico piccolo perché l'avrei nerfato un bel po' di più ma vediamo come si comporta dopo questo nerf ossia sulla seconda abilità dopo che dascia prima facevate 50, 75, 100, 125 più l'80% dell'AP non che uno build AP del danno mentre adesso viene praticamente dimezzato il danno addizionale che fate dopo aver dasciato con la seconda abilità un buon nerf ci sta finalmente Lux invece viene baffata per la mid però guardate perché cosa vanno a fare le aumentano semplicemente la quantità di ability power di potere magico che prende sulla suprema quindi se avete 100 prima vi dava 75 insomma la potenza della ulti addizionale così invece ne prende 0,85 quindi una 0,10 in più non è male quando avete la build particolarmente avanti sarà molto buono come cambiamento Nuno invece viene nerfato finalmente perché so che alcuni di voi non se ne erano accorti ma è veramente forte gli vanno a abbassare le statistiche vedete l'armatura per livello passa da 3,9 a 3,5 e vanno anche a nerfare la prima abilità che vedete viene nerfata alla fine alla Q la prima abilità da 980 a 800 un bel po' in meno ed inoltre anche le cure sono ridotte e la cura in razio dal 9 all'8% viene spostato quindi un bel nerf su Nuno ci stava tutto Pantheon invece viene buffato guardate semplicemente alla Suprema gli vanno ad abbassare il cooldown per renderlo un po' più viabile nel potersi spostare sulla mappa poi andiamo a Riven Riven che sappiamo ha terrorizzato il competitive il metagame infatti viene nerfata dicono un po' troppo forte abbassano il danno della prima abilità di un circa 5 danni niente di esagerato e alzano il cooldown della terza abilità cosicché possa muoversi un po' di meno e fare un po' meno di danno ma non la toccano troppo per non esagerare Seraphine invece viene semplicemente leggermente sistemata la rendono un po' più viabile a livello 1 e dicono che da adesso appena inizia la partita avete già le due stack di passiva pronta così avete più scelte a livello 1 quindi se prendete subito lo scudo per curare insomma due volte se prendete la terza abilità per subito cercare lo snare o invece se prendete la prima come già capitava in altre volte Shyvana viene buffata perché dicono non è abbastanza forte in questo momento specialmente nel lag meta e nelle giocate competitive quindi vanno ad aumentare il danno che fa i draghi elementali e i draghi maggiori dal 20 al 25% ed inoltre vanno ad aumentare il danno magico che fa sulla sua seconda abilità Soraka invece viene buffata e dicono che non è abbastanza forte e semplicemente vedete che vanno ad aumentare la durata dello snare da praticamente come Jin cioè vanno ad aggiungere quello 0,25 di secondo in più sul suo snare Tristana invece viene buffata perché dicono che non è per niente forte sia in ranked che nelle competizioni e quindi vanno ad aumentare e scusatemi a diminuire il cooldown della prima abilità di ben un secondo e vanno ad diminuire il cooldown della terza abilità di un secondo Trindamer viene praticamente mezzo reworkato dicono funzionava bene in giungla ma non funzionava abbastanza bene in top e quindi cosa fanno gli abbassano il danno di base gli aumentano il danno che guadagna per livello gli abbassano l'attack speed iniziale ma raddoppiano la quantità di furia guadagnata e la quantità di critico che poi guadagni dalla furia viene aumentata da 10 a 15 ed inoltre aggiungono una nuova passiva che ti dà un bel po' di attack speed per 5 secondi dopo che hai appena attaccato un campione inoltre il bloodlust è la prima abilità va a aumentare anche la quantità di cure che ricevete dalla furia utilizzata la seconda abilità invece quella che rallenta viene leggermente nerfata dati insomma i cambiamenti positivi che gli hanno fatto fino a questo punto ed inoltre sulla suprema aggiungono una nuova passiva che aumenta l'attack speed bonus basata sul livello dell'abilità quindi alta l'attack speed anche dalla suprema un bel cambiamento speriamo che non diventi troppo forte in top come dicono anche loro stessi andiamo a vedere wukong wukong è leggermente troppo veloce a pulire la giungla quindi vogliono un po' nerfarlo e quindi fanno in modo che le stack che guadagna non sono solamente invece che sui campioni e mostri grandi sarà solamente sui campioni mostri epici quindi solamente su quelli più importanti quindi drago e messaggero o barone ziggs viene leggermente nel fatto cioè fanno in modo che la curva della sua passiva i danni che fa con la passiva tirando l'attacco base sia uguale in early game uguale late game ma che il mid game sia meno forte affinché sia ecco un po' più bilanciato overall come cambiamento le aram mettono il fiore della visione fanno in modo che il fiore dia la visione e quindi levano la visione che dà invece il cannon minion per i cambiamenti del gameplay il primo che vediamo è quello dei buff che potete fare sui vostri alleati per evitare che andrete per esempio a tirare la cura al clone di wukong fanno in modo che non sia più fattibile e quindi gli scudi per esempio di enni le cure di soraka lo scudo di gianna o lo scudo di lulu insomma vedete ecco ne fanno degli esempi non potranno colpire questi cloni ma solamente l'originale insomma il player diretto per quanto riguarda i support un'altra novità positiva infatti vanno a cambiare di nuovo la quantità di oro che prende l'ultima persona quella con meno gold e vedete che il bonus gold parte dal quarto minuto e non più dal quinto e che il bonus gold per secondo passa da 1 a 2 quindi l'ultimo player quello con meno gold in genere il support finalmente vedrà un buff al loro guadagnato per i flash fanno un piccolo cambiamento cioè ci sono delle spell che loro ritengono debbano funzionare insieme al flash quindi se andate a fare tipo qui fanno un esempio con riven e dicono fate la terza Q di riven mentre flasciate deve arrivare tutto nello stesso punto mentre altre cose non dovrebbero essere così quindi questo cambiamento dovrebbe servire a fare in modo che quelle che decidono loro funzionano in questo modo cioè per esempio prima se flashavate annullavate completamente il dash e i suoi effetti mentre adesso dovreste apportare il danno e il dash stesso direttamente dove sta arrivando il flash come cambiamento agli oggetti per esempio qua ci dicono che non potrete comprare più di una volta lo stesso oggetto di livello 3 quindi per esempio persone che comprano 800 Infinity Edge su Draven o cose di questo tipo non lo potrete più fare un cambiamento estremamente importante agli oggetti energizzati è che adesso possono staccare quindi Rapid Fire Cannon Storm Razor Static Sheev possono tutti staccare non è più una passiva unica ma possono fare il danno energizzato altissimo quindi benvenuta Caitlyn che sta arrivando e bentornato Jin che con il buff di prima e il buff a questi oggetti potrebbe diventare molto interessante quindi ci dicono staccano compratene tutte insieme fate una fracca di danno per la protobelt ci dicono invece che se prima la premevi durante un dash interrompevi il dash e arrivava subito la protobelt adesso ci dice che aspetta che finisca l'animazione del dash che già stai facendo affinché vada in porto l'enchant della protobelt cambiamenti alla giungla la vanno a nerfare dicono è troppo forte la giungla è troppo forte l'impatto dei jungler siamo contenti nerfano la giungla cosa succede? lo smite per esempio viene cambiato e dice che chi ha lo smite guadagna 20% di gold in più dai mostri ma aumentano la penalità per i minion quindi dai mostri bene dai minion male niente tasse non si fa ed inoltre vanno ad applicare dei cambiamenti anche ai mostri della giungla dove cambiano anche lo spawn time per esempio che passa di quelli piccoli e quelli larghi diventa da 90 a 105 secondi e cambiano anche come vedete ve li lascio direttamente qui su schermo tutti i guadagni di oro di questi vari mostri e ve li scrivono direttamente uno per uno inoltre cosa molto importante vanno a nerfare il baron lo fanno spawnare per la prima volta a 13 minuti e fanno ridurre cioè scusate riducono il danno che i minion potenziati dal baron fanno che invece di passare al 40% di boost diventa solamente un 20% e visto che hanno nerfato lo spawn del baron ci dicono anche che vanno aggiungere un secondo messaggero quindi un nuovo herald che spawnerà dopo 4 minuti quindi se fate velocemente il primo herald entro i 12 minuti avete modo di fare anche un secondo herald ed inoltre cambiano anche il danno alle strutture da parte degli herald che passa da 200% della D più il 20% HP a 1500 flat più il livello del campione quindi il campione che lo ha summonato moltiplicato per 50 ed inoltre cambiano anche la quantità di danno che prende Rift herald dopo che tira la testata per le comunicazioni e il sociale ci dicono che i ping la chat e le motte avranno tutte lo stesso cooldown di spam condiviso ed inoltre ci dicono anche che aumentano un po' l'area d'effetto delle motte wheel quindi della ruota delle motte per quanto riguarda gli effetti per esempio della zonia o della guardian angel cosa fanno dicono che prima tutti vedevano l'attivazione quando stava per scadere insomma che state per tornare in vita o uscire dalla zona adesso solamente i vostri alleati vedono quel timer poi hanno allargato il testo in chat della chatting game ed inoltre hanno fatto in modo che ci sia un link di invito che potete mandare ai vostri amici che li invita ad entrare su wildrift e direttamente ad aggiungerli come amici ci fanno anche qualche cambiamento ai controlli per esempio dei campioni melee e dicono che se voi spammate il bottone dell'attacco base andrete a colpire più facilmente i minion adesso invece loro cosa fanno mi dicono che questa cosa mirerà un po' di più i campioni quindi anche i campioni melee dovranno iniziare a imparare ad usare bene il bottone dei minion per quanto riguarda il dash che vi fa utilizzare per esempio lo scatto nella direzione che è una impostazione che potete mettere nei settings appunto del gioco cosa succede? che voi potevate dashare nella direzione in cui vi stavate muovendo ora ci dice che se voi non state utilizzando il pollice sinistro non vi state muovendo e premete un dash e avete questa opzione attiva andrà direttamente sul target che avete magari vicino piuttosto che nella direzione in cui il vostro campione sta guardando per lo store hanno aggiunto una nuova feature cioè quando c'è qualcosa di nuovo nello store ci sarà il puntino che vi dirà ehi c'è qualcosa di nuovo nello store ed inoltre bella cosa la prima volta che comprerete dei wildcords dopo la patch 2.5 ci sarà una scelta tra uno e tra cinque skin insomma ne potremo prendere una non sappiamo ancora quali speriamo qualcosa di interessante piccole cose addizionali ci dicono che hanno migliorato le visuali di quando andate a condividere uno scorro o qualcosa dalla vostra partita che hanno migliorato anche scusatemi il modello di trash per assomigliare di più al video che avevamo visto insieme la scorsa volta ed inoltre è quello di lui alla taverna hanno fatto anche qualche miglioramento per i nuovi giocatori c'è scritto niente di particolare magari lo vediamo insomma quando arriva la patch e hanno anche aggiustato qualcosa per quanto riguarda i tutorial per far capire meglio come funziona il target lock e come funziona la jungle ora vi lascio a brevemente come al solito la free to play champion rotation per qualche secondo della settimana del 14-20 ottobre di quella del 21-27 e niente questa avventura ragazzi è finita qui il video è finito io vi ringrazio per averlo guardato tutto se lo avete guardato tutto vi invito a lasciare un like ad iscrivervi al canale vi ricordo che vado in diretta streaming tutti i giorni dalle 17 alle 21 tranne il mercoledì e sabato e che lascerò giù in descrizione come al solito nei miei link cioè insomma nell'info box i link ai miei social e tutto quanto vi ricordo che questo sabato sabato 16 ottobre ci sarà la maratona sul mio canale Viola sempre il link giù in descrizione vi auguro una buona serata delle buone ranked e ci vediamo al prossimo video a Grazie a tutti.